signori siamo in un bellissimo evento oggi giorno 20 stiamo donando un bel sorriso a tanti bambini che veramente ne hanno tanto tanto veramente bisogno noi attori saremo i camerieri noi attori saremo quelli che direttamente daremo a mangiare ai ragazzi e voglio augurare a tutti veramente le cose più belle del mondo ragazzi niente guerra niente isis amate fate delle belle cose e non fate le guerre che sono le cose più brutte che esistono al mondo ciao e buon 2016 ciao